Paura e panico a Ponte Cagnano-Faiano. Spari in pieno centro. Purtroppo ha perso la vita una ragazza di 30 anni, Anna Borsa. È accaduto questa mattina intorno alle 9, quando secondo una prima ricostruzione dei fatti, un uomo armato di pistola ha varcato la soglia di un negozio di bellezza a Via Tevere ed ha colpito mortalmente la ragazza dipendente del salone, che purtroppo è deceduta sul colpo. Ferito alla spalla un 38enne, attuale compagno della ragazza, non in pericolo di vita, ricoverato all'ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi da Ragona di Salerno. Attimi di paura nel negozio dove c'erano già i primi clienti, che di certo non dimenticheranno mai più quanto accaduto sotto i loro occhi. L'aggressore, probabilmente un suo ex quindi legato alla giovane da una precedente relazione sentimentale, è scappato subito dopo aver sparato. E' ricercato un elicottero delle forze dell'ordine e sta perlustrando la zona. A svolgere le indagini dell'omicidio i carabinieri della locale stazione, coordinati dalla compagnia di Battipaglia, agli ordini del maggiore Vita Antonio Sisto. Abbiamo appena appreso di una notizia che sconvolge la nostra comunità. Una giovane ragazza ha perso la vita a causa di un tragico omicidio. La città intera di Ponte Cagnano-Faiano si stringe intorno alla famiglia. Ponte Cagnano-Faiano si prepara ad osservare il lutto cittadino annullando ogni evento in programma, ha scritto il sindaco di Ponte Cagnano-Faiano, Giuseppe Lanzara, sui social network. Ponte Cagnano-Faiano